Signori benvenuti a quella che sarà probabilmente l'ultima puntata non della stone block ma relativa alle singolarità Questa epopea che si è diciamo che è rinchiusa in qualche live, in qualche video, cioè 3-4 video o una cosa del genere Dove abbiamo automatizzato finalmente quasi tutte le singolarità Ragazzi manca solamente quella del polonium e della source gem Allora 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 innanzitutto la source gem perché è quella più semplice da automatizzare No intanto qua frizziamo manetta raga allora io direi di abbassare le caratteristiche un attimino del modpack Perché se no raga qua diventiamo scemi Ok però per il momento lasciamo le cose così Quindi cioè questo è il primo modpack che mi sta veramente dando problemi di questo tipo Allora con questo computer Allora quindi dicevamo innanzitutto Non mi voglio trovare qua ecco così va meglio Allora innanzitutto qua ovviamente abbiamo attivato le luci quindi questo è fermo Anche perché Terral Slate Singularity ne abbiamo 60 quindi Ma direi che va più che bene Allora fammi vedere un attimo il Divination Sigil perché devo controllare a quanto siamo 5 milioni Bene, 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 bene Mi fa, mi va più che bene Quindi vuol dire che praticamente non consuma più di tanto Durante la mattina Quindi mai mi consuma più durante la Perché tu non mi hai ripiantato i Tau Fruit Ma si è... Eh ma c'è l'acqua Vabbè ascolta Tau Fruit o non Tau Fruit Vaffanculo Veramente non mi interessa Levati Grazie Molto gentile No cazzo Io pensavo avesse tolto il blocco di stone Ma l'immorta Va bene Allora ragazzotti Oggi dobbiamo fare per forza di cose quella cosa con la Source Gem Quindi innanzitutto ci trasportiamo nella base Scendiamo un altro po' E qua dovremmo avere un po' di Source Source Molto bene Qua abbiamo la gallina con il Coal Very good Quindi in questo impianto si può tranquillamente usare Allora Source Gem Per fare la Source Gem Abbiamo bisogno dell'Imbuement Chabber E utilizzare la Pislazzuli oppure la Metis Shard Ma noi l'Imbuement Imbuement Qualcosa L'abbiamo fatta Sì L'abbiamo fatta Allora facciamo così E proviamo a vedere Amethyst Come funziona Craft in progress 100% Ok Quindi Sì Va Potrebbe Funzionare Però siccome è così easy peasy Io direi di farne Di più Quindi fare una cosa di questo tipo Perché è tutto così scuro voglio dire Allora qua sotto Andiamo a mettere un bel EMC Link Very well Che fornirà il coso Tutto l'ambaradam di cose Di amethyst Poi prendiamo pipe Filtri eccetera eccetera Ok Quindi Facciamo così Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Non recipe found Sì lo so che non hai trovato una recipe Allora facciamo così Qua togliamo Qua facciamo così Mettiamo Questo Fai uscire solo le amethyst shard Quindi in teoria dovrebbe Molto bene Perché solo quelle Allora aspetta un attimo Perché forse queste Non ricevono niente Perché Ok Facciamo così Ecco qua Poi da qua Facciamo una cosa di questo tipo Prendiamo un ender chest Molto semplice Semplice Prendiamo il purple Che non dovrebbe essere un colore Che abbiamo utilizzato E facciamo così Poi Dobbiamo vedere Se effettivamente Lui fa uscire l'amethyst O fa uscire il risultato Fa uscire anche l'amethyst Quindi dobbiamo dirgli Solo questo Grazie Ok Quindi abbiamo Abbiamo il coso Come si dice Il Ma è tutto al 100% Quindi dovrebbe andar bene 19 Molto bene Allora facciamo U Innanzitutto dobbiamo andare a vedere Quante ne vuole Il neutro Ne vuole 90 Noi andiamo a botte di 8 Ogni processo Me ne fa 8 Quindi in teoria Dovrebbe essere un buon Un buon valore Perfetto Allora saliamo Tutto su Quindi qua Piazziamo una bella Ender chest Facciamo Facciamo Il tubo Però Lo dobbiamo Collegare Ok Facciamo così Mettiamo il neutronium Compressor Vediamo Ah molto bene Molto molto bene Vediamo se Continuano ad arrivare Oppure se non è ciancatto No 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 Continuano Continuano ad arrivare Tranquillamente Molto bene Molto molto bene Quindi qua svinciamo E mandiamo tutto a casotta Perfetto raga Perfetto Perfetto Mamma mia Che lag Mamma mia Che lag Allora quella Quella zona Dovrebbe essere ciancata Quindi ci mettiamo Qui Per andare a creare Un altro Un'altra zona Per l'appunto E adesso raga Sono dolori Perché abbiamo da fare Allora Fai vedere innanzitutto Facciamo così Poi facciamo così 16 16 Più E meno Quindi facciamo così Oppela Perfetto Quindi Qui come al solito Una bella Feral lamp In modo da illuminare Tutta la zona E non avere Rotture di coriandoli Diciamo Da parte Dei mob Poi Magnetino E un po' di stonda Raga Questa serie So che non è Votata molto All'estetica Ma Raga No Veramente Per me Questo mese È molto faticoso Già tanto Se riesco Comunque A portare Un contenuto Al giorno Cioè veramente Anzi Sto anche Sto anche Diciamo Un attimino Perdendo Alcuni contenuti Va bene Allora E adesso Arriva Il bello Adesso Arriva Il bello Noi dobbiamo Fare Il polonium Questo Coso Qua Allora Questa L'abbiamo Automatizzata Ci manca L'ultima Da automatizzare L'ultima 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 Pressurized Reaction Chamber Quindi Pressurized Reaction Chamber Dovremmo Riuscire A farla Molto Facilmente Noi per non sbagliare Andremo a far imparare Tutta la roba Della Mechanism All'uplied Cioè alla Sì all'uplied Alla Refined Cosa sto dicendo Vedete ragazzi Questa è la stanchezza Questa è molto Questa è molto Stanchezza Facciamo così E facciamo così Poi facciamo Enrichment Chamber Vorrei capire Perché non ti piaceva Va bene Ok Quindi adesso abbiamo La possibilità di fare Una Pressurized Reaction Chamber Giusto? Molto bene Anche questa La facciamo imparare E la mettiamo di qua Molto bene Poi Andiamo a vedere Cosa ci serve Ci serve La fluorite Dust Quindi ci serve Il crusher Della Mechanism Quindi crusher Andiamo a fare così Lo facciamo imparare Alla Progette E lo mettiamo Qui dentro Molto bene Quindi E questo L'abbiamo levato Dalle palle Ma la fluorite dust C'è un valore Di MC Ma io mi sto anche Preoccupando del crusher Va bene Polonio Il polonio Si ottiene Tramite Nuclear waste E la sulfur dust Che comunque Ha un valore Di MC Quindi la nuclear waste Si ottiene Dal Fish on reactor Quindi dobbiamo fare Il fish on reactor Innanzitutto Fish on Molto bene Per fortuna Hanno un valore DMC Quindi non dobbiamo Mortacci Tu Non abbiamo Stake Casing E te lo faccio Anche subito Imparare Così almeno Non caghi la minchia Molto bene Fish on reactor port Così possiamo Limor Facciamo così Molto bene Posso farne Ora Si Molto bene Facciamo imparare E lo mettiamo Qui dentro Ma Oggi Non ce la faccio Proprio Logic adapter Non mi interessa Mi interessa Il fuel Assembly Lo facciamo imparare E poi Lo mettiamo di qua Ora mi servono Le control road Eccole qua Control road assembly Molto bene Molto bene E facciamo così Ora Abbiamo detto Nuclear waste Si fa dal Fish on reactor Ma noi ci serve Il fossil fuel Che si fa All'interno Dell'isotopic Centrifug Isotopic Perché capite Perché sto facendo Imparare tutto Alla Progete Perché Quando Andremo a fare L'impianto Di polonio Io ne devo avere A bizzef Vabbè che Ma ne fa uno Ogni C'è una singolarità Ogni tre Effettivamente Non dobbiamo Avere chissà che cosa Allora Speed Upgrade E Energy Upgrade Non ho L'energy Upgrade Veramente Ok Lo posso Craftare Lo facciamo Imparare Subito Perché Sono delle cose Che veramente Mi Servono Ok Quindi siamo A posto Quindi abbiamo Detto Ci serve L'isotop Allora Andiamo Al ritroso Con l'uranio Exafluorite Che si fa Nel chemical Infuser Madò Chemical Infuser Eccolo qua Thank you Very much Così Lo buttiamo Qui dentro Quindi Abbiamo detto Chemical Infuser Che vuole L'uranio Oxide Che si fa Chemical Oxidizer Quindi un Chemical Oxidizer Oxidizer Con la I Ok Con la I So Forse Con Ok Cos'è L'altra Cesta Personal Ah Personal Barrel Addirittura Hanno Evoluto La Mechanism Con Sulfur D Sì Certo Adesso Faccio La Seduplicazione Degli or Ok Poi abbiamo detto Che l'altro Ha un valore DMC Quindi dovremmo farne Una sola E basta All'interno Delle Un 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 Vaffanculo Idro Hydrofloric Acid Vuole Il Sulfuric Acid Aspetta No Ah c'è anche il flume Vabbè non cambia niente Quindi dobbiamo fare questo Per forza Ci serve la fluorite Nella Chemical Dissolution Chamber Chemical Dissolution Chamber Molto bene Meno male che ha tutto della meccanese ma un valore di EMC per fortuna E poi il sulfuric acid Chemical infuser ce l'abbiamo già Item to gas No no Non da funzione Allora Sulfur dioxide e water vapor Vabbè il water vapor Si ottiene del condensante L'acqua Ecco Quello Sulfur trioxide Si ottiene attraverso l'ossigeno Il sulfur dioxide Che si ottiene attraverso il sulfur Un chemical oxidizer Molto bene ragazzi Siamo arrivati al capolinea Ora Ora Pronobis Partiamo Subito Partiamo subito Dal Come si dice Dall'idrofluoric Acid Quindi per fare l'idrofluoric acid Ci serve il sulfuric acid Che si fa Ehm Ah il Affanculo Il decondensante Quella cosa lì Quella che trasforma Liquidi in gas E gas in liquidi Madò Rotary Condensator Eccolo qua Cosa Cosa ti manca? Una fluid tank E un energy tablet Ok Quindi Ricapitoliamo Ci serve un ruota Ricondensato Poi Una tank Questa va benissimo Più il ring Quello là Che genera l'acqua Della progette Solo che Cercare il ring In questo modpack E un attimino A noi poi Un amuletto Non è un anello Va bene Configurator Ce l'abbiamo già Quindi iniziamo Da qua Diciamo A lui Che deve prendere I liquidi Da sopra E gas Aspetta però Non so se È messo bene Più che altro Allora Ruota di condensator Sì Così Va bene Quindi Deve fare Così Fluidi Così Gas Da dietro Ma se io Metto Ma è bellissimo Posso mettere Direttamente No vabbè Ma è un genio È un genio No Questo è un genio Questo è un geniaccio Ma stai scherzando Non ci ho pensato Che L'avrebbe potuto Ah no Questo è un plug Non ci serve un Point Poi Upgrade Perfetto Quindi Tu c'è il water vapor Al massimo Consuma un po' Perché ho visto Un 50.000 RF Consumati E Effettivamente Non sono pochi Dobbiamo mandare Il Water vapor All'interno Direttamente Del chemical infuser Con il sulfur Trioxide Quindi andiamo a prendere Un chemical Infuser Facciamo così E gli diciamo Vabbè Era giusto Input A sinistra Per il momento Poi andiamo a prendere Mechanical Mechanical Pipe No Questi Per i fluid Quindi erano I pressurized Che non abbiamo mai fatto Beh in realtà Potrei farne Un attimino Un po' di più Ecco Poi andiamo a Trasformarli Molto bene E molto bene Quindi lui adesso Sta trasferendo Questo qui Perfetto 51000 Non è poco Non è assolutamente Poco Potrebbe essere Un problema Anche perché Questi cavi Contengono Un casino Quindi magari Mi conviene Più che altro Andare a mettere Questi Così si riempono Poi magari Tipo Ma se proprio Non vogliamo rischiare Che siano Troppo scarsi Mettiamo questi Abbiamo 16000 Qui Qua si riempie Eccetera Perfetto Quindi Water vapor Con il sulfur Trioxide Che si ottiene All'interno Di un altro Chemical infuser Che si ottiene Attraverso L'ossigeno E il sulfur Dioxide Ma scusa Ma gli energy E 51000 È molto Anche per un rotale Condensator Sì però Non mi avete rotto Il cazzo Con queste stick Vabbè Allora Chemical infuser Facciamo così E gli diciamo Output A sinistra A sinistra E Prendi Da Davanti Si Si Vabbè C'è l'altro Gas Che comunque Lo deve Prendere A destra Ok A me serve Un Electrolitic Separator Che non abbiamo Probabilmente L'autocraft Cioè non abbiamo Autocraftato Osmium Dust Va bene Madonna Che palle Però Allora Osmium Tanto vedo che Comunque La farm Di uraninite Funziona Abbastanza bene Devo essere Sincero Facciamo Imparare L'osmium Dust Al signorino Facciamo così E facciamo Electrolitic Separato Quindi facciamo così Anzi Dato che ci sei Mi fa imparare Anche questo Ok Molto bene Quindi Abbiamo detto Electrolitic Separator Quindi Qua Clearizziamo Tutto Quanto Molto Bene Facciamo Un altro Amulet Di quelli Della Progettee Non so Non so se posso Metterlo All'interno Diretto Si Molto bene Questa cosa Mi piace un sacco Cable E gli diciamo E gli diciamo Che il blu Deve andare via A vedere E' l'ossigeno I mortacci E' l'ossigeno Vabbè Anda via Ok Oxygen Molto bene Ora Lui è lento Perché ovviamente Adesso Ragazzi ho paura Di usare Gli upgrade Però Cioè 19.000 A questo 51.000 A il rotary Condensetto Allora Fammi ragionare Un attimino Che poi Questo Lo potevo Collegare Direttamente Infatti Farò così Perché Così Almeno Posso fare Questa cosa Questo gioco qua Allora Electrolytic Separato Il Questo Il chemical Infuser Che vuole L'ossigeno E questo E così Ok Perfetto Quindi abbiamo Diciamo Un collegamento Unico E Praticamente Anche Diretto Ed è molto Meglio Allora Quindi abbiamo Detto Ci serve Il sulfur Trioxide Quindi Il sulfur Dioxide Ci serve La sulfur Dust Nel chemical Oxidizer Quindi Andiamo a Prendere Il Oxidizer Lo mettiamo Di qua Ciao Prendi Cioè Manda via I gas Da sinistra Cioè a sinistra Prendi gli oggetti Da di fronte Ora Qua sotto Ovviamente Andiamo a metterci Un cables Sulfur Questo sulfur Non ha un valore DMC Però La sulfur Dust Della meccanism Invece Si Come si ottiene Questa Scusa Enrichment Chandra Dici dust Pensi Ovviamente Al crash No Che solitamente Fa quel lavoro Lì Ok Via Un pezzo di cobblestone E facciamo EMC Dobbiamo fare Così per forza Con i tubi Pipe La wrench Ce l'abbiamo E dobbiamo andare A farglielo imparare Mamma mia Che freezing Ok Perfetto Lui sta facendo Quello Il suo lavoro Adesso Vediamo Un po' Di Upgrade Questo Consuma Un po' Di meno 800 RF Su TIC Perché non fa uscire Il gas Ma Scusa Non è che non c'ha L'input Ah non aveva L'input Ok Perfetto Quindi Adesso sta producendo Il sulfur Trioxide Molto bene Facciamo Così E così Stanno andando abbastanza Veloce Ok Sulfur Prenderlo Effettivamente L'abbiamo 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 ottenuta In qualche modo Oppure no Lavando la sand Io non so perché Non abbia Allora dobbiamo andare Non di qua Nemmeno di là Di là Qui dietro E ci ci circolo Quindi facciamo così Togliamo Togliamo La mettiamo qua Molto meglio Molto molto meglio Allora Fluorite Questo deve andare Dentro un Chi è che sta ancora Lavorando Ok tu Vieni a fare Questo E poi Dopo ti dovresti Fermare Ti devi spaventare Ti devi spaventare Diamo gli MC link E mi sono dimenticato Allora Fluorite Vediamo Cosa ci serviva Che ha La chemical Disolution chamber Disolution chamber Quindi Tu devi prendere Il gas Da sinistra So che Li dobbiamo dire Output Ecco qua E gli oggetti Te li faccio prendere Da dietro Quindi MC link Andiamo a prendere La fluorite Fluoro Molto bene Un bel pipe Una wrench E dovremmo esserci Un paio di upgrade Giustamente Perché Ragazzi Facciamo le cose Male Noi 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 Cosa Ah l'energia Non è energia Giustamente C'è anche ragione Così Ah Idrofluoric Acid Molto bene L'idrofluoric acid All'interno Di un chemical infuser Con l'uranium oxide Mi fa ottenere L'uranium Exafluoride Quindi prima di tutto Dobbiamo andare a vedere Come si fa questo Yellow cake Yellow cake Uranium Yellow cake Uranium Mi serve L'uranio E mi serve Un enrichment chamber Che abbiamo già Quindi Andiamo a fare così 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 Ce ne serve una Al volo Thank you Grazie Molto gentile Torniamo di nuovo qua Nel posto più laggoso Del mondo Facciamo imparare la Yellow cake Thank you very much Ci mettiamoci di qua E gli diamo Madonna Sto già impazzendo Allora Questo va all'interno Di un chemical infuser Quindi dobbiamo mettere Il cavo qua Chemical infuser Di qua Dirgli che Prende il gas Da sinistra E da destra E manda tutto Davanti Output Giusto? Si Giustissimo So che dobbiamo dire A lui effettivamente Ciccio Output 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 Cosa Del genere L'hydrofluoric acid Molto bene Ora Con La yellow cake Uranium Andiamo a vedere Cosa c'è Il chemical Oxidizer Chemical Oxidizer Questo è giusto Ok Allora Quindi chemical Oxidizer Invece Prende gli oggetti Da sinistra E manda via Gas A destra Perfetto Quindi qui Mettiamo un altro Cavetto Cavettame Il nostro bellissimo Cavettame Allora Qua Ok Ci mancano Due Upgrade Molto bene Allora Uno 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 E uno Perfetto Allora Qui MC link Ma se io ti faccio Entrare gli oggetti Invece che da qua Da dietro Tu ti offendi Non penso Non credo Che si offenda Il signorino Allora Facciamo così E lui dovrebbe Lavorare Per Noi Molto bene Quindi Abbiamo Finalmente L'uranio Hexafluoride Ora Questo qua Va passato Nel Isolation Isotopic Centrifug Va messa Qui Perfetto Ora Io non so Se l'energia Te la posso dare Anche da sotto No L'energia Te la devo dare Per forza di cose Guarda Ringrazia Che i flux Sono facili Da fare Perché Sarei svalvolato Da dove Cazzo La vuole L'energia Me lo spieghi Da qua Allora Facciamo una cosa Tanto Ecco Braff 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 Molto braff Upgrade Fissile Fuel Per noi Oh Finalmente Finalmente Siamo Arrivati Alla fine Un po Diciamo Tutto Compresso Cioè Pensare Allora Tutto l'impianto Che avevo fatto Per la Project Isotermal E vedere Questo Mi viene Da ridere Cioè Veramente Perché Quello Isotermal Occupava Il doppio Dello spazio Perché Comunque Non avevamo La Progette Quindi Dovevamo Fare Tutte Le farm Dei Seed Della Magical Trop Con cui Poter Farmare Tutto Qua Cioè Una Cosa Allucinante Quindi Quindi Non è Finita Qua Abbiamo Da Mettere Il Reactor Adesso Avendo Un valore DMC Non è Più Un problema Diciamo Lo Potremmo Mettere Effettivamente Anche Diciamo Qui Sotto E Mettergli Le porte Effettivamente 1 2 3 4 5 6 7 Facciamo Un 7 Per 7 3 4 5 6 E 7 Molto Bene Molto Bene Ora Distraction Tua Nonna Quanto lo vogliamo Far Cioè Vogliamo Fare Un 7 Per 7 Quindi Se noi Andiamo Sotto Di 4 Blocchi 3 Sono Sopra Sì Quindi Up 2 Up 2 Right 2 Right 2 Così Non mi ha distrutto Non mi ha distrutto La fera Lamp Ragazzi È immortale All'estation Catalyst Questa cosa Ok Illumina Di nuovo D'immenso Tutto Quanto Facciamo Exchanging Gadget Facciamo Prima Facciamo Così Ok 4 Allora Sono 5 6 E 7 Ok Quindi Qui Davanti Andiamo A metterci Ovviamente Port Molto bene Qua Siccome Io non mi fido Del reattore Della Mechanism Perché è lento Ah ok Era sul lento Per l'appunto Facciamo così E gli diciamo Che qua A Vrenche Items No Come funzionava Ok Allora Dobbiamo mettere Non output waste Ma output No Allora No Allora è su input Allora è su input Ok Mentre di qua Questa la togliamo Di nuovo Poverina Cioè Questa ormai Sta pensando Ma mi vuoi O non mi vuoi Cioè Voglio dire Va bene una volta O due Ma Adesso è rotto Anche gli zebedei Allora Facciamo così Quindi Di qua Output waste Facciamo così E poi Output Coolant Nell'output Coolant Andiamo a mettere Un bel trash can Ultimate Perché non ci serve A un'emerita minchia E per il resto Vabbè Lo vediamo Allora Qui dentro Adesso Facciamo Tank Siccome io Non mi fido Uno Due Tre Quattro E cinque Andiamo a fare Così Poi Ok Andiamo a prendere Le mechanical pipe Che servono per i fluid Quindi questi Anche se abbiamo Diciamo Il più potente Meglio Meglio così Anche perché L'acqua Non deve mai mancare In questo reattore Allora Facciamo Così E poi Ah ma forse Aspetta Ok No 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 Si riempie Perché ha riempito In un batter d'occhio La I tubi Però Ho un dubbio Atroce Che non Non vada bene Con il reattore Della Della Mechanism Boh Speriamo di si Allora Road Prendiamo questi Buttiamo dentro No Aspetta Quelli mi servono Vabbè Poi li riprendiamo Fuel Perfetto Allora Questi Vanno così Poi Saliamo Di qualche blocco Finito Basta Questi vanno messi Dentro Non dimentichiamoci E infine Siamo Questi Ok Funzionare Ha funzionato Però Sto notando Che l'acqua Non sta defluendo Molto Bene Mmm Il che non è che mi piaccia Più di tanto Eh Perché Ai 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 Allora Sono meglio Gli acqueos Accumulator Ma molto meglio Ma neanche a paragone 1 2 3 4 5 Purtroppo Non si può Sempre usare La stesso metodo Facciamo Coblesson Di qua Prendiamo un anello Da qua E facciamo Ok Poi Che non funzioni Non dimmi che l'acqua La vuoi Per forza di cose Ok La vuole Nei lati Per forza di cose L'acqua Ma ad ora Ma ad ora Ma veramente Cioè Non Cioè Come fa a essere Così lento Allora Io vorrei Io vorrei Anche provare A dargli Il Il fuel No Ok La La cosa sta andando Piuttosto bene No Blocchiamolo Mettiamo Non a 5 Ma a 1 Ok A 1 Già vedete Già 1 Gli da fastidio A 0.5 Proviamo A 0.5 Anche a 0.5 Non è possibile Cioè l'unica Cioè l'unica L'unica opzione A 0.1 Ma stiamo scherzando No Ma tu stai fuori Tu sei fuori Di testa No Non penso Che funzioni Questa cosa Però Bisogna provare No Vedete Non Non me la prende Proprio No Ragazzi Siamo Siamo un po' Nella cacchina Siamo un po' Nella cacchina Perché Non posso Produrre Questo tanto Di Nuclear waste Cioè Water Come posso fare Il water Scusa Allora Con questo Va bene Questa non è una cosa Che ci interessa Water condensator Non è una cosa Che ci interessa Aspetta Perché forse Ho trovato Il metodo Raga Forse era Solo Da Allora Proviamo a dargli Un 0.5 Adesso No Ok Con lo 0.5 Rimane Proviamo a dargli Un 1 Ah Probabilmente Era solo La tank Che faceva Cagare Quindi Adesso Già va un po' Meglio Proviamo a dargli Un 5 Un 5 Si si Mi arregge A botta Sono Piene 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 Cioè Volendo Potremmo Anche fare Così Voglio dire 10 10 Una tank Che la consuma Completamente Io ne ho 5 Voglio dire Posso fare 15 1 1 Faccia Ho visto No adesso Dovrebbero riempirsi Di nuovo Raga Una volta Che si riempono Tutti i tubi E tutto il resto Dovrebbero Ok Quindi Dovrebbe A 5 Dovrebbe andar bene Cioè Voglio dire Allora Facciamo stare Zitto Subito Il reattore Perché è Veramente Ecco Veramente Fastidioso Come pochi Qua sta salendo La temperatura Rimane Costante Quindi L'acqua Non dovrebbe Dare problemi Io qui Un bel Chunk loading Lo farei Cosa c'è qua La bottagna Levati Non mi serve più Ormai Dov'è che Più che altro Stiamo chancando Vabbè Non fa niente Allora Quindi Abbiamo Il nostro Nuclear waste Per fare il polonium Abbiamo bisogno Della Pressurized Reaction chamber Con L'acqua E il Sulfur Quindi Pressurized 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 Reaction chamber Facciamo così Nuclear waste A manetta Quindi facciamo che Prendi Da dietro Prendi Prendi gli oggetti Da sopra E li mandi Via A destra No Aspetta Perché Questo non Dagna Questo Da solo Il polonium Quindi Quindi il secondo Stadio Dobbiamo Preoccuparci Ok Perfetto Quindi Gas Va bene Prendi da dietro Manda Così Gas Prendi da dietro Manda via Davanti Poi Dobbiamo Fare Liquidi Dappertutto Liquidi Va bene Poi Tank Dobbiamo Dargli L'acqua Ovviamente No Sempre Stesso Modo Facciamo Così Facciamo Cosa E poi Facciamo Un bel Amulet Di tua Nonna Thank you Very much La mettiamo Di qua Questo Di qua Questo Così Facciamo Così Mechanical Dobbiamo Andar bene L'unica Cosa Che ci Manca Ovviamente Sono Gli oggetti E poi L'energia Quindi Andiamo A fare Un bel Flux Point Qui In mezzo Dobbiamo Stare Attenti A come Usiamo Il Quell'aggeggino La Cable Ah il sulfur Dobbiamo Andare Quindi Facciamo Sulfur IMC Link Pipe Ho questi Direttamente Uguali Raga Stiamo Avendo Veramente Un'ansia Assurda Di sbagliare Qualcosa E ci Ritroviamo Ok Non è andato Niente Da nessuna Parte Facciamo Così Ok Upgrade Raga Raga Fare Fare Queste Cose Mette Un'ansia Allucinante Non potete Capire Allora Facciamo Così 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 E così Perfetto Quindi Abbiamo Il nostro Polonio Adesso Dobbiamo Mandarlo Dentro Un'altra Pressurized Reaction Chamber E Questo Per cosa Lo posso Usare Per niente Nuclear Waste Ok Vabbè Pressurized Reaction Chamber Molto Bene Servirà Anche L'acqua Quindi Allora L'energia Da sotto L'acqua Da dietro I gas Ai lati E poi Me li mandi No Tu non Dovresti Ah si Dovrebbe far uscire I Nuclear Waste L'oggetto Sopra Ora Ender Chest Sian Stanno Lo sto Usando Facciamo Così Item Auto E Yet Molto Bene Cosa Che Dobbiamo Mandare Lì Ah la Florita Dust Florita Dust Pure Pure Quella Allora Dobbiamo andare Pulverizer Al volo Polverizzarla Thank you Siamo quasi Ci siamo quasi Ci siamo Quasi Quindi EMC Link Ce li ho Però Aspetta Tanto ancora Non ho attaccato Niente Quindi possiamo Mettere Questo Così Allora 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 Abbiamo detto Gli faccio Gli faccio Arrivare Gas Da sopra Lo faccio Andare Via L'energia Le la mando Sopra A A sinistra Gli faccio Tutto off camera Tutto off camera Perché è bruttissimo Perché è bruttissimo fare Tutto Queste cose Bellissime Off camera Fai vedere Ok Facciamo così Poi Svrenciut Quindi l'acqua Ce l'hai Il polonio Lo sta ricevendo L'acqua L'acqua è a posto Questo è a posto Fai vedere Se il polonio Lo sta ricevendo Piano piano Non è un problema Piano piano Fa le cose Non abbiamo Alcuna fretta Allora Facciamo così Poi Facciamo così E qua gli diciamo Che deve Accettare gli oggetti E mandarli via Da davanti Quindi L'ender chest L'abbiamo già fatta Facciamo Così Prendiamo la Fluorite dust Fa vedere Si è ringraziato il cielo Upgrade Uno e due Fa vedere Sei Polonium Pellet Ora il problema Sta nel Dove faccio uscire Il waste Perché anche quello È un problema A meno che Non faccio Un Universal Pipe Che dovrebbe Comunque Far uscire I gas Ora non so Ma non credo Che si possa fare Una cosa Di questo genere Però Non hai ancora Abbastanza No Non eliminarmi Il polonium L'immortaci tua Vediamo No Non me lo elimina Quindi dobbiamo Per forza di cose Fare Così Ok Così va bene Poi Mettere I barrel Quelli Spent Facciamo nuclear No Com'è che si chiamavano Mechanism I Quelli per La raccolta Delle scorie Non li trovo Ragazzi Eccoli qua Allora Ne facciamo No Cioè Hanno fatto Una singola cosa Che è Staccabile Della Mechanism Ok Perfetto Quindi facciamo così E qua Abbiamo i nostri primi Sette Polonium Pellet Ragazzotti Facciamo così Eliminiamo Ovviamente Tutto quello Che Non ci serve Molto bene Andiamo a controllare Qua come è la situation Qua è tutto pieno Qua è tutto pieno Qua l'acqua Sta andando alla grande E tutto Ciancato Quindi Non dovremo correre rischi Veniamo di qua E facciamo No Un'altra Ender chest Ma questo è Ciano Bianco Bianco Ciano No Di morta Ma dai Ma che sfiga Ho Allora Ciano Dobbiamo riandare Qua dove c'è la Meccanism Si ho detto bene E fare così Tornare di qua Fare così Qua è tutto ok E tutto apposco Pipe Branch Neutron Compressor Vado Un'ora 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 Di video Un'ora Di video Un'ora Fottuta Di video E finalmente Vi posso Affermare Con gioia 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 Che abbiamo Fatto tutte le Singularity Singularity Anche se per alcuni Ci vuole Un attimino Un pochettino Di Tempolino Facciamo così Cosa I tubi I tubi No Grazie Che non so Dovrebbero Dovrebbero essere Tutte Comunque Ragazzi Io vi abbandono Qua Madonna Veramente Non so neanche Che cosa devo fare Adesso Porca Miseria Porca Miseria Allora Abbiamo fatto Quindi Tutte le Singularità Ora Dobbiamo Impegnarci Per il Catalyst L'Infinity Catalyst Raga Infinity Catalyst Che oltre ad avere Tutte le Singularità Ha anche Landless Pearl Questi Vabbè Sti Cazzi Serve un cd Poi Ha un valore Di mc Quindi Non mi interessa L'Ultimate Stew Che è L'insieme Di tutti Questi Cibi La Cosmic Meatballs Che è Tutta Questa Roba Però è Tutta Roba MC Abile Quindi Tanto Quanto Autocraft No Avarizia C'è un Autocraft In Table Da qualche Parte No Non mi Sembra Di Vederlo Va bene Ragazzi Io vi saluto Qua Noi ci vediamo Alla Prossima